Oggi, domani, domani, molto condiviso su questo evento, io lascerei la prova, l'appresentante della emozione di Gugliani, signor Giovanni Lucerini. Allora, sono Lucerini, io stavo in questo ultimo momento, io stamattina voglio ringraziare voi perché gentilmente ci ho citati qua e ci sono di dire le cose che non vogliamo ma in modo particolare il mio saluto dai lavoratori che pur, come dire, non andrò, signor Giovanni lo stanno qui stamattina a tipo di ragioni che noi abbiamo avuto. Guardate, questa è la mia famiglia, questa è la mia famiglia, questa è la mia famiglia di Gugliani, a voi una sicurezza di responsabilità, quella di non far tantino la sede legale della politica, perché l'altro è a essere l'incitore per noi, perché l'abbiamo a dire anche voi, ma è anche una questione economica. Non è vero che si tratta solo con Tenevano e con Tenevano, quando il Fede dell'Oclusco fiscale sarà liberato in questo paese, quelle elezioni, anche oggi, spettro alla fede legale, si prenderanno più lì, all'isciato di legione già fuori. Noi tutti insieme dobbiamo vincere questa battaglia, perché abbiamo l'inancione della nostra parte. Noi non siamo in quegli colori che assumono, non vi stiamo chiedendo assistenza di amici, ma stiamo chiedendo per l'area, un'eccellenza nel suo campo non deve essere bossa da privilegiare. Noi non fanno il fatto che in questo momento fa paura, il fatto che noi non siamo in quegli colori e noi non abbiamo l'eccellenza, e se volete anche di Necola, quando avuto bisogno del principio migliano, hanno chiamato i nostri vecnici, perché abbiamo fatto un proprio problema strutturale, per cosa sto che loro mandano, l'anno 346, ma non siamo qui a fare la battaglia tra i campani vicini, vogliamo che la fede legale le scappogliate, perché l'abbiamo creata lui, e l'abbiamo creata di funzionalità, di campani, di nostri padri, di nostri nomi, e noi ci siamo decennati. Io ho deciso di cercare una cosa, noi insieme a voi vediamo e vincere questa battaglia, ma non solo delle maestrante che ci siamo presenti, ma anche del futuro industriale di questa regione, anche ai materiati. bravo! 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 Grazie.